Benvenuto e bentornato sul mio canale. Io sono Danny T, o cinghiale di ferro su Dauntless. Oggi vi porterò delle davvero... su cose, informazioni, su quello che forse potremmo trovare all'interno del gioco Dauntless con il mega pacione che arriverà quest'estate. Ora, ci tengo a ribadire che queste informazioni sono leak, quindi tutto potrebbe cambiare. Tutto è in fase di progettazione, quindi quello che vi farò vedere oggi sono solamente bozze e spunti che sono state trovate non direttamente da me, ma da un altro youtuber che ringrazio per i suoi contenuti. Naturalmente, se volete vedere il video originale, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Per il resto, lanciamoci su questo nuovo video. Partiamo subito e partiamo in gran stile con la lira, che in questa bozza sembra davvero qualcosa di completamente differente, con colori scuri e una muscolatura, penso, molto più accentuata. Ma non ci fermiamo solo qui, perché guardate qui, ne abbiamo due versioni. Ora, per canto mio, spero che la seconda versione, quella che vedete alla vostra sinistra, non sia la versione oscura, ma spero sia invece quella dei terreni di caccia. Quello che è stato annunciato di un terreno in cui troveremo solo un bimot, di una rarità più alta come pezzi e anche come difficoltà. Però, pensando bene, parliamo della Phoenix. Quindi sì, sarà un riutilizzo di questo bimot in versione oscura. Anche se, ripeto, spero vivamente non sia questo, ma spero sia solamente una versione più potente della lira. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. E invece qui abbiamo un nuovo stile per quanto riguarda il Karabakh. Molto più alieno, definiamolo così, che Libellula. Questa nuova versione, devo essere sincero, non è che proprio proprio mi piaccia tantissimo al primo look. Però, chissà, forse in gioco renderà meglio. E francamente vi dirò spero vivamente. In più, penso che questa versione sia una versione di fuoco. E vi faccio vedere il perché. In questa immagine ne abbiamo due versioni. La prima versione, quella alla nostra sinistra, sembrerebbe la classica del Karabakh, per colori e forma. Ma la versione adiacente sembrerebbe quella oscura, o chissà, forse quella di fuoco. Beh, spero che la Phoenix non incentri tutte le evoluzioni di questi Beemoth, beh, nel ramo oscuro. Ci spero, vivamente. Ed ecco qui un concept art del nostro Alien. O fondi roccia, o meno che sia. Beh, i colori sono totalmente cambiati. Sembra più un'armatura di ossa, che un'armatura di piastre laviche, o comunque ricoperte di magma. Ma non solo, perché se questo concept comunque ti piace, beh, allora guarda qui. La sua versione finale, la sua versione 3D. E sì, come detto prima, sembra più ricoperto da osse, che non da scaglie, diciamo, magmatiche. O comunque che dia quel senso di magma, come dovrebbe essere questa creatura. Comunque sia, il risultato finale, davvero, dieci e lode. E sempre a tema fuoco, beh, abbiamo lui, che, beh, sì, sembrerebbe il Charrog. Spero. Una versione molto più salamandra, diciamo così, molto più rettile, secca e lunga. Non è malaccio, come bozza di disegno, ma la sua versione in 3D. Beh, sì, la sua versione in 3D, ragazzi, rende davvero tanto, tantissimo, direi. Non tanto contento per quanto riguarda questa versione di fuoco sulla pelle e colore marroncino scuro, però, in generale, rende bene. Naturalmente, se abbiamo parlato dei Beemoth, dobbiamo anche parlare delle armi. Questi nuovi tirapugni a forma di chela, beh, non sembrano molto accattivanti, però li vedo un po' troppo grossi e penso che siano quelli ricavati dall'ultima creatura che è stata rilasciata all'interno di Dauntless, o meglio, nel pacione. Per quanto riguarda, invece, questa strana arma ancora senza colori, credo sia pure rilegata all'ultima creatura che è stata fatta vedere all'interno delle patch. E per quanto riguarda la spada, beh, sì, sono sempre convinto della stessa cosa, che siano le tre armi che possiamo costruire dall'ultima creatura, o meglio, bozza, ideata per quanto riguarda il mondo di Dauntless. Se ti chiedi di quale creatura sto parlando, beh, questa che stai vedendo in foto. Beh, sì, e ti dirò di più, se vuoi saperne di più per quanto riguarda i suoi attacchi, elementi e molto altro, ti consiglio di vedere i miei video precedenti, in cui parlo in maniera molto più dettagliata di questa creatura che verrà rilasciata all'interno del mondo di Dauntless. E poi abbiamo queste creature delle aree ghiacciate. Sembrano, sì, balene. Orche? Chiamatele come volete. Beh, sì, sembrerebbero quelle. Alate, naturalmente, perché vediamo che stanno volando. E non solo. Se aguzzate bene la vista, sulla parte destra si potranno notare... Definiamo altri pesciolini volanti, chiamiamoli così. Non saprei come definirli o come chiamarli. Però sì, chiamiamoli così, pesciolini e balenottere. E tu, cosa ne pensi di questa creatura? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Sulla parte estetica abbiamo questi, che ricordano tanto le cornici per ogni reforge che facciamo alle nostre armi. O meglio, ogni volta che raggiungiamo un determinato traguardo. E sì, al primo occhio sono davvero belli. O meglio, quello è bello, ma questi spettacolo. E spero, spero vivamente, che l'animazione di quello oscuro e di quello elettrico siano non solo immaginette così, come una foto, ma che siano proprio animato, come sono alcune delle nostre corone. Naturalmente abbiamo parlato di tutto e non parliamo delle armature. Cioè, ragazzi, questa bellissima. Cioè, vediamo soltanto una parte, ma davvero stupenda. E qui viene nuovamente riproposta. E se vedi bene, nella parte posteriore si vedono come due ali. Spero che siano due ali, davvero. Spettacolo, non vedo l'ora da averla. E poi abbiamo questa. Non so cos'è, ma la voglio. Assolutamente. E tu? E poi abbiamo questa, che parla da sola. Cioè, stupenda. E sembra anche animata, perché ci sono queste piccole riflessi, stelline, color rosso, attorno. E secondo me, questa è la corona se fai la classifica e arrivi tra i primi cinque, o comunque i primi tre, di quella determinata arma. E tu? Cosa ne pensi? Perché cosa potrebbe essere questa corona rosso rubino? Fammelo sapere. Allora, sono o non sono novità su cose? È vero che stiamo parlando di leak. È vero che sono tutte bozze e progettazioni. Quindi, non siamo sicuri che li troviamo all'interno del megapaccione. Però, qualora venissero rilasciati, per me, sono davvero belli. In linea generale, sì. Sono davvero belli. Non mi posso lamentare più di tanto. E tu? Cosa ne pensi? Per il resto, noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, un saluto da Cinghiale di Ferro, o da Nitti. Ciao!